I porco dio Nibi no togliete sta roba porco dio dai ma adesso chi chiama il suo figlio di puttana di Nibi che ritardato che hai cambiato cosa? come? perchè hai cambiato la base? hai cambiato side che cazzo è sta roba aspetta Waze andiamo insieme e andiamo insieme tanto che a me porco dio muoio se vieni con me no ma adesso cazzo c'è sta uno qua è una kill non la faccio manco per sbaglio oh cazzo sta arrivando oh raro non mi è mandata da sole guarda tutti a destra io sei l'unico a sinistra vaffa figare col gps vuole ma che danno beh ci sto scendendo le scale e tu porco dio mi fai risalire perchè è di qua base nostra che cazzo è che ha messo sto fumo? che cazzo che cazzo è che ha cambiato arma? io porco dio ragazzi c'ho una paura da siamo in tre contro uno usciremo a vincere no? spero aspetta andiamo in alto bello bello marco dio santo la kill ma eh non l'ho visto l'ho visto l'ho visto dove sta? dove sta? eh vieni dove sto io dal centro in alto dove vicino i conterrener neri ah ancora la? si come? che gp è stato mica male eh ancora la come cazzo m'ho visto? che sei affacciato in quel momento? ha due ha capelli ma rimette il cecchino Waze non posso non ci becco dio cane è l'alto con il cecchino fa 150 a 0 eh qua non parco di non lo so come fa già il PSG più preciso è livello 1 oh cazzo sta arrivando non becco un cazzo non becco è tutto nelle mie mani e vince prezzo incredibile salva tutto non sa che c'ha oggi ma non lo so la skill la skill no in realtà in realtà è quest'arma che ho qui raga l'MBX cioè dovete prenderla troppo forte oh ho chiuso adoro la oh porco dio c'è qua di mia storia dama 1 10 da zitto porco dio una mappa di merda albi di destra ma come sbaglio uccido la gente dio cane di là guardi curo dietro ma schifo comunque sta mappa dietro 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 le cure troppo grande sta mappa vai albi bello arco dio ancora che lo faccio forte albi eh arco dio dai vabbè in due dai muoviamoci a finire porco dio che mi sto incazzando mancano ancora 3 round se vinciamo eh porco dio vaffanculo mi hanno bannato dal server ma perchè no ma scusa una cosa round 10 ah si e di là 9 vittoria 4 contro 1 sicuramente vinciamo sto round figaro che è OP G fa 14 7 con yucan poi g g g g g g g g fra g g g g g g